160 squadre, ma pure altre 60 a cui si è dovuto dire no. I tradizionali tornei di basket di Pasqua portano grandi numeri, ma cifre sempre più insostenibili da reggere per la capacità alberghiera della città. O perlomeno per la capacità ricettiva di aprile. Dal 7 al 10 tornano infatti i tornei di basket giovanili con un esercito di cestisti dai 10 ai 19 anni, provenienti da tutta Italia, grazie al 22esimo torneo Ciao Rudy, organizzato da Sportsman Grandi Eventi e al 19esimo torneo femminile organizzato da Olimpia Basket. Una festa che rende però contenti a metà gli organizzatori. Non pensiamo valga più la pena fare un torneo a questi numeri, perché abbiamo quasi 450 persone su Gabice Cattolica, che sono un problema grosso, perché bisogna pensare ai trasferimenti, bisogna pensare che devono venire a giocare a Pesaro, eccetera. Quindi abbiamo un problema con gli alberghi, che è quello ormai che sembra irrisolvibile. Quindi da parte mia, io con Giulio ho già parlato, ed è quello di ridurre di tantissimo il prossimo anno, perché altrimenti non vale più la pena. È una situazione albergatore che dovrebbe funzionare, ma così non funziona. Se turismo vuol dire portare a Pesaro turisti, che poi con tutti gli indotti di ristoranti e cose varie, e poi costretti a mandarli a Cattolica e a Gabice, perché alcuni obbligatori non aprono, perché non gli conviene, perché dopo c'è una pausa, queste cose qui, vuol dire che di turismo, secondo me, io faccio sport, ma di turismo vuol dire capire poco. Tra maschi e femmine parliamo di circa 2.700 giocatori. Ci metti dentro 350 allenatori, siamo quasi a 3.000 persone. Più metteci altre 1.000-1.500 genitori che hanno riempito tutto. Riempito tutto, vuol dire dagli alberghi due categorie, quelli in B&B, hanno riempito tutto. Naturalmente i genitori, non avendo l'obbligo di prenotare tramite l'organizzazione, e riempiono tutti gli alberghi, portando via il posto alle squadre. E quindi ecco perché è una cosa da rivedere, perché così non funziona. Ecco perché ti dicevo, siamo contenti a metà. Siamo contenti a metà perché comunque noi siamo dei professionisti che lo facciamo da una vita e sappiamo che il torneo comunque andrà molto bene, se no le squadre non tornano, non ne avremo sempre di più. D'altra parte però non vale più la candela, perché il lavoro da svolgere è talmente tanto che non riusciamo mai a metterci a pari, se non adesso, fra due giorni, pensiamo di rimetterci a pari. Quindi è una cosa seria che va valutata anche, voglio dire, col Comune di Pesaro per vedere che soluzioni si possono trovare, altrimenti, come ti dicevo prima, cioè non prendiamo più di 60 squadre, però è un peccato perché ne devi lasciare fuori almeno, almeno altre 80. Noi abbiamo avuto un incontro a Rimini, col Comune di Rimini che ci ha chiamato, ci ha invitato, certo, tutte le associazioni, invitandoci a spostare tutto questo torneo lì da loro che ci avrebbero comunque assistito, eccetera. Con Pino abbiamo fatto un corso, siamo di Pesaro, tanti anni che da Pesaro, è giusto che non ci è sembrato giusto l'intervista di Pesaro, ne abbiamo parlato anche con l'associazione albergatori, poi invece il risultato è stato questo, insomma. Al di là delle problematiche, l'assessore Mila Della Dora ha enfatizzato il lato positivo di una festa del basket che si giocherà in ben 24 impianti della città e del circondario. Una manifestazione incensata dalla stessa associazione albergatori che spiega fin dove la capacità ricettiva è in grado di spingersi. La richiesta che è stata fatta è stata assorbita in parte, ovviamente, sia per un fatto che ormai siamo arrivati a un 30% circa di hotel che fanno servizi di bed and breakfast, quindi ovviamente questo esula dalla necessità che hanno i ragazzi, gli sportivi, e quindi non si possono alloggiare in quelle strutture, quindi dobbiamo cercare altre soluzioni. Poi per il resto comunque siamo oltre le 2.000 persone, oltre 6.000 presenze per il torneo, quindi credo che la ricettività sia stata buona in città e quindi ecco, questo è un po' il dato oggettivo dell'evento. Siamo molto contenti di ospitare questo tipo di evento, perché ovviamente per noi è la riapertura della stagione estiva e quindi è una grande festa dello sport e del basket qui a Pesaro.